buongiorno e benvenuti ad una nuova puntata del caffè della salute con cucina naturale oggi siamo in compagnia di mario fadin che è ginecologo autore del libro tecniche nuove le domande dell'attesa direttore del centro medico sempione benvenuto nella mia cucina e oggi parleremo di nausee in gravidanza molte donne in gravidanza soffrono di nausee una condizione che non ha conseguenze per il bambino anzi alcuni studi sembra che la presenza di nausee sia associata a un minor rischio di aborto nelle prime settimane ma è molto fastidiosa e la dieta che cosa può fare per alleviare un po' questo fastidio possiamo avere qualche indicazione da lei allora le nausee sono effettivamente frequenti in gravidanza colpiscono tre gravide su quattro quindi insolgono solitamente intorno alla settima settimana e solitamente scomparono intorno alla dodicesima la causa è l'ormone della gravidanza beta hcg ed è per questo che sotto sotto il ginecologo vede con favore la comparsa nelle nausee perché vuol dire che c'è un'ottima impregnazione ormonale quindi la gravidanza presumibilmente parte bene e prosegue meglio diciamo che le nausee possono essere sicuramente controllate nella gran parte dei casi con piccole avvertenze molto semplici innanzitutto bisogna evitare di mangiare solo ai pasti raccomandati ma bisogna mangiare poco e spesso e ancora più importante bisogna cercare di ridurre il digiuno e mangiare in particolare appena ci si sveglia cose asciutte solide e solo dopo si può bere io consiglio sempre di tenere dei cracker sul comodino prima ancora di alzarsi quindi prima si mangia e poi si beve e quando si beve bisogna bere poco spesso e quel poco acqua fredda da frigo con un po di limone poi se vogliamo aiutarci con qualche altro rimedio sempre naturale lo zenzero funziona benissimo altrimenti con naturale assolutamente cibi da evitare cibi da evitare sono sicuramente il caffè i fritti il fumo non è un cibo ma è rientra e poi diciamo che nel primo trimestre cambia il gusto questo è il motivo per cui si parlava in passato delle voglie della gravida ecco bisogna cercare di assecondare il gusto della gravida in quel momento cose che magari in passato ci piacevano in gravidanza risultano fastidiose quindi bisogna evitare di dover per forza mangiare quello che vogliamo essere il cibo ideale cerchiamo di assecondare il gusto perfetto io dottore la ringrazio del suo tempo grazie di essere stato qui con noi alla prossima e aspetto anche voi alla prossima puntata di cucina naturale grazie grazie grazie